Buongiorno ragazzi, in questa video-lezione vedremo insieme le pagine 140 e 141 di Travel and Tourism. Il titolo del paragrafo è An Urban Resource, quindi una risorsa urbana. Innanzitutto leggiamo insieme il primo paragrafo. Il popularità di città come turismo e destinazioni ha crescutto drammaticamente over the past few decadenti. Mane turisti preferirei frequenti short break holidays a long summer holidays, e città sono ideal per short break holidays. There are a number of reasons for this. Firstly, cities are easier to reach than in the past. And secondly, weather and climatic conditions in a city are not as influential as with the great outdoor destinations, as cities always offer alternative indoor activities in case of bad weather. Thirdly, unlike isolated historic sites, for example archeological sites, Most cities have a wealth of attractions in a relatively small physical area. So, tourists can see a lot in a very short period of time and don't need to travel long distances from one historic site to another. However, attractions in a large city are so varied that a selection has to be made, because no city can be visited completely in a single long weekend. Tourists visiting a city for the first time will probably visit sites that tourists visiting it for the second time won't want to see. The former will probably be interested in getting a general idea of the city. The latter would probably prefer to explore parts of the city that are usually unknown to mass tourism. Some will concentrate on visiting museums and historic sites. Others still might be interested in fashion and design, shopping, sports events, or fairs and exhibitions. Here is a mini guide for a two-day walking tour of Milan. Ok, so, the popularity of cities as tourism destinations has increased dramatically over the past few decades. Quindi la popolarità delle città come destinazioni turistiche è cresciuta moltissimo negli ultimi decenni di anni. Molti turisti tendono a preferire vacanze brevi, short break, a vacanze più lunghe, a vacanze estive più lunghe. Prefer, puntini puntini, to. Preferisco questo a, like you say, if you say, I prefer sushi to pizza. Preferisco il sushi piuttosto che non la pizza. Prefer, to. Quindi molti turisti tendono a preferire vacanze brevi a lunghe vacanze estive. E le città sono ideali per delle vacanze brevi. Quindi c'è un numero di ragioni per questo fenomeno. Prima di tutto, le città sono più facili da raggiungere che non nel passato. e secondariamente le condizioni atmosferiche e climatiche, più che atmosferiche e meteorologiche del tempo, quindi condizioni meteorologiche e climatiche in una città, non sono tanto influenti quanto con le destinazioni all'aria aperta. Great outdoor destinations sono le destinazioni all'aria aperta, quindi spiagge, montagne per sciare, eccetera. Poiché le città offrono sempre attività alternative all'interno nel caso di maltempo. Quindi il meteo incide in maniera minore rispetto ad altre vacanze, alle vacanze al mare, alle vacanze in montagna, in quanto ci sono sempre attività da svolgere al chiuso, musei, teatri e quant'altro, rispetto che non con le altre vacanze. Terzo punto, unlike vuol dire diversamente da, diversamente dai siti storici isolati, come per esempio i siti archeologici, quali può essere Stonehenge, la maggior parte delle città ha a wealth of attractions, una quantità di attrazioni, nel senso di luoghi da visitare, posti da visitare, in un'area fisica relativamente piccola. Così i turisti possono vedere molto in un periodo breve di tempo e non hanno bisogno di viaggiare, di percorrere distanze lunghe da un sito storico all'altro. Tuttavia i luoghi da vedere in una città grande sono così vari che deve essere fatta una selezione, a selection has to be made, poiché nessuna città può essere visitata completamente in un unico weekend lungo. I turisti che visitano una città per la prima volta probabilmente vedranno luoghi che i turisti che la visitano per la seconda volta non vorranno vedere. The former, the former vuol dire i primi, quindi i turisti che la visitano per la prima volta, saranno probabilmente interessati nel prendersi, nel farsi un'idea generale della città. The latter, i secondi, gli ultimi, preferiranno invece probabilmente esplorare parti della città che sono di solito meno note al turismo di massa. Alcuni preferiranno concentrarsi sulle visite ai musei, a siti storici, altri invece potrebbero essere più interessati alla moda o al design, al shopping, agli eventi sportivi, alle fiere o alle mostre. Ecco qui una mini guida per un tour a piedi di due giorni a Milano. Ok, quindi il paragrafo an urban resource è breve, relativamente semplice e anche in questo caso piuttosto schematico perché vi elenca per punti firstly, secondly, thirdly e poi alla fine fa un distinguo tra chi visita una città per la prima volta e chi la visita per la seconda volta. Quello che poi vi viene proposto è un leaflet con un itinerario a piedi a Milano, un itinerario di due giorni. è ben scritto nel senso che potete trarre spunto per fare anche voi un itinerario più avanti quando scriveremo gli itinerari, quando ci prepareremo alla stesura di un itinerario per l'esame di Stato perché ci sono le indicazioni del tipo svolta a destra, svolta a sinistra, entra in questa via, esci da questa via, vai di qui, vai di là, quindi è molto ben costruito e quindi vi raccomando di leggerlo con grande attenzione. Il limite di questo itinerario è che è vecchio, è pre City Life, pre Gaia Olenti per intenderci, quindi manca tutta la Nuova Milano che è bellissima, non so se l'avete visitata, ma le costruzioni architettoniche di Milano post 2012-2013, quindi alcune completate con Expo 2015, altre post Expo 2015, sono bellissime e in questa guida non sono ovviamente contemplate, ma non importa, poi vi darò un compito anche su quello. Focalizziamoci intanto su questa che abbiamo sul nostro libro di testo, Milano's Highlights. Innanzitutto vi invito a leggerla, quindi mettete in pausa, leggetela, vi dico già che non vi tradurrò nulla, quindi se ci sono dei termini che non capite dovete cercarli da soli, potete usare il dizionario, potete usare Word Reference come preferite, però leggetela con grande attenzione e quando avete terminato di leggerla e di cercare tutte le parole che vi servono sul vocabolario, fate ripartire il video. Ok, spero che tutti i termini siano chiari, vi faccio notare come è costruita questa mini guida, c'è un piccolissimo paragrafetto introduttivo che vi, che introduce, che appunto che presenta Milano all'ipotetico turista. E poi è suddivisa in due giorni, day one, day two. Day one inizia con, if you have never visited Milan before, start from the heart of its city center, where the giant cathedral with its forest of spires dominates the vast piazza del Duomo. Ok, vedete l'inizio abbastanza pittoresco perché dice appunto se non hai mai visitato Milano prima inizia dal cuore del suo centro città dove la cattedrale gigantesca con la sua foresta di guglie domina la vasta piazza del Duomo. Quindi non dice start from the Duomo, non lo dice proprio Duomo, parla della cattedrale, vabbè tutti conoscono, la cattedrale che troneggia su piazza del Duomo. Poi un'altra frase utile, don't miss, non perderti, ok? Aggettivo breathtaking views, viste mozzafiato. Poi to the south of, a sud di, house, to house, ospitare. Poi nella seconda colonna, we highly recommend, poi dice to the north of, a nord di, poi un po' più avanti, proceed to the north side of, continua al lato nord di, un po' più avanti, don't forget, non dimenticare, è come don't miss, non perderti, non dimenticare. E siamo al termine del day one. Notate come in un itinerario tutte le frasi sono all'imperativo, ok? Perché state invitando le persone a seguire il percorso che voi avete scelto per loro, ok? Non è semplice scrivere un itinerario senza avere fonti di riferimento, dovete conoscere bene una città, quindi doveste scegliere all'esame di fare un itinerario. È forse più facile con una distanza maggiore, una distanza più grande, quindi non so, un itinerario, che so, costa est degli Stati Uniti, perché avendo voi studiato geografia, avete un minimo di nozioni della costa est, potete pensare a un itinerario che appunto tocchi alcune città. Ma un itinerario all'interno di una grande città, quale può essere Milano, piuttosto che non Londra, piuttosto che non Parigi, vi richiede necessariamente di conoscerla bene, quindi non è semplice, è forse più semplice appunto su vasta scala. Ma arriviamo al day two. Nella seconda riga notate head to, dirigiti verso, ok? E' come walk toward, dirigiti verso. Poi nella terza colonna vi faccio notare, trace your steps back, along, torna indietro verso. Anche questa è una costruzione un po' pittoresca, trace your steps back, vuol dire traccia i tuoi passi indietro verso, quindi ritorna sui tuoi passi. Poi sotto alla foto del castello sforzesco, the castle now houses, di nuovo to house, ospitare. Poi relax, poi ultima colonna proceed, procedi. Poi di nuovo to the east of, boasting splendid, ok? Che vanta una splendida. Poi end your tour at, take the underground, get off. Ok, abbiamo visto alcune espressioni che possono tornare utili per delineare un itinerario. Ok, ora, sperando che non venga troppo lungo il video, vorrei fare con voi gli esercizi di pagina 141, esercizi numero 1, 2 e 3. Partiamo dal numero 1, fatelo, mettete in pausa e poi correggiamo insieme. Ok, esercizio 1. A, skyline is number 8, horizon. B, roof, 3, a structure that forms the top of a building. C, spires, number 2, slender structures that narrow upward to a point. Strutture snelle che diventano sempre più strette verso la punta superiore, quindi le cosiddette guglie. To host, 1, receive, give, hospitality. Cruciform, 6, shaped like a cross. Housing, 5, containing. Breathtaking, 4, causing excitement and wonder. Dome, 7, hemispherical, roof or vault. Volta o tetto di forma hemispherica. Number 2, now, answer the following questions. 1, why are the cities considered ideal for show break holidays? 2, list the buildings, monuments and museums you can visit in Milan in 2 days. And 3, who would you recommend this tour to? Ok, prendetevi il vostro tempo, mettete il video in pausa, svolgete l'esercizio per iscritto. Ok? Quando siete pronti, fate ripartire il video. So, number 1, why are cities considered ideal for show break holidays? Because they are easy to reach and because the weather conditions do not influence as much as in other destinations. Number 2, list the buildings, monuments and museums you can visit in Milan in 2 days. So, you can visit the Duomo, the Museum of the 20th Century, the Scala, the Pinacoteca di Brera, Castello Sforzesco, the Church of Santa Maria delle Grazie, Sant'Ambrogio, the Aquarium, and the Navigli, Palazzo Triennale, and maybe many more, which I have forgotten. Number 3, who would you recommend this tour to? Well, that's an open answer. I may recommend this tour to people who have never visited Milan before and who are not worried about walking. So, people who like the idea of walking. Finally, number 3, summary. Complete the following summary about your urban resources with words from the box. Mettete in pausa, svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo. So, number 1 is area, number 2 is short, number 3 climate, number 4 destinations, number 5 past, number 6 Milan, number 7 historic center. Ok, questa è la fine della lezione. Ma veniamo a noi, a parte studiare, avrete anche un lavoro da svolgere. Direi che lo potremmo svolgere a coppie, a distanza, a coppie o in tre. Non le formo io le coppie o il trio, lo formate voi in base alla comodità vostra. Mi comunicate via mail le coppie o i triplets, i gruppetti di tre. Poi io caricherò questi gruppetti o queste coppie online, nell'aula virtuale, sperando che funzioni, nella sezione apposita. Caricherò appunto i gruppi. Il lavoro che dovrete fare a coppie oppure a gruppi, beh, ve lo spiego nel momento in cui mi comunicate le coppie oppure i gruppi. Non ha senso che io ve lo spieghi adesso, quindi rimango in attesa online di avere notizie da parte vostra. E nel momento in cui mi comunicate le vostre decisioni, vi assegno il lavoro. Potete intuire di che cosa si tratti. Non si tratta di scrivere un itinerario, non ancora, ma essendo questa guida di Milano veramente old fashioned, si tratterà di cercare qualche informazione in inglese sulla nuova Milano, quindi su City Life, Gaia Olenti, il Bosco Verticale, eccetera. Però ripeto, vi assegnerò bene con calma il lavoro nel momento in cui mi comunicate via mail o su WhatsApp, vedete voi i gruppetti. Bene, buon lavoro ragazzi e a presto. Bene, buon lavoro ragazzi.